Ciao a tutti e benvenuti al nostro canale. Oggi parleremo di un olio essenziale unico e aromatico, l'olio essenziale di Basilico del Piemonte. Scopriamo insieme cos'è, come si estrae, come utilizzarlo e i suoi benefici. Cos'è l'olio essenziale di Basilico del Piemonte? L'olio essenziale di Basilico del Piemonte è un olio ottenuto dalle foglie della pianta di basilico, scientificamente nota come Ocimum Basilicum. Questo particolare basilico è coltivato nella regione del Piemonte, famosa per la qualità e il profumo intenso delle sue erbe aromatiche. Come si estrae l'olio essenziale di Basilico del Piemonte? L'olio essenziale di Basilico del Piemonte viene estratto principalmente attraverso un processo di distillazione a vapore delle foglie fresche. Le foglie vengono raccolte e sottoposte a vapore ad alta temperatura. Il vapore, che contiene l'essenza del Basilico, viene poi raffreddato e condensato, separando l'olio essenziale dall'acqua. Come utilizzarlo? L'olio essenziale di Basilico del Piemonte può essere utilizzato in vari modi. Aromaterapia Aggiungi alcune cocce a un diffusore per creare un ambiente rinfrescante e stimolante. Massaggi Diluisci l'olio essenziale con un olio vettore, come l'olio di mandorle o di jojoba, e massaggia sulla pelle per alleviare i tensioni muscolari e migliorare la circolazione. Inalazione Inala direttamente alcune gocce su un fazzoretto o tramite vapore per alleviare il mal di testa e migliorare la concentrazione. Cucina Aggiungi una piccola quantità, una o due gocce, alle tue ricette per un tocco di aroma intenso e fresco. Benefici dell'olio essenziale di Basilico del Piemonte L'olio essenziale di Basilico del Piemonte offre numerosi benefici per la salute. Proprietà antinfiammatorie Allevia dolori muscolari e articolari Proprietà antibatteriche Aiuta a combattere infezioni e purificare l'aria Proprietà digestive Favorisce la digestione e allevia disturbi gastrointestinali Effetti positivi sulla mente Migliora la concentrazione Riduce l'ansia e lo stress L'olio essenziale di Basilico del Piemonte è un prezioso alleato naturale per il benessere quotidiano Se ti è piaciuto questo video metti un like e iscriviti al nostro canale Per non perdere altri contenuti interessanti Grazie per averci seguito e alla prossima